La robotica è futuro, la robotica sono posti di lavoro, le aziende hanno bisogno, tutte le aziende utilizzano l'automazione e quindi la robotica. Le porte del Margaritone, l'istituto tecnico professionale di Arezzo, si aprono alla robotica grazie ad un percorso per conseguire il patentino. In Toscana vi è solo un'altra scuola oltre noi a fare questa iniziativa. È un'iniziativa che prevede 100 ore di studio da parte della classe Comau, che è una classe trasversale al tecnico di trasporti e logistica aeronautico, all'Orafo, all'impianti civile industriale e alla meccanica. È fatta da 20 ragazzi, questi ragazzi seguono queste 100 ore di lezioni di cui 52 online, le altre in presenza e infine si recheranno a Grugliasco, che è la capitale italiana della robotica vicino a Torino, dove c'è l'azienda Comau con quasi 10.000 dipendenti. Il percorso formativo consente ai ragazzi di diventare esperti di robotica ed è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione come percorso di alternanza a scuola lavoro per un totale di 100 ore a studente. Si troveranno prima di tutto faccia a faccia con un potente simulatore messo sempre a disposizione da Comau tramite piattaforma online. Le prove poi su robot veri saranno effettuate in una giornata che si svolgerà presso la sede di Comau che avrà la durata di 8 ore, durante la quale poi ci sarà anche un test finale che servirà per poter far conseguire ai ragazzi più meritevoli questo attestato. Gli sbocchi futuri sono interessanti in quanto nel mercato europeo, in Italia, nel 2017 c'è stata una crescita di circa il 13% nella penetrazione di robot industriali nelle varie aziende. Tutte queste macchine, sia per manutenzione, per programmazione, per studio dei cicli lavorativi, hanno bisogno di tecnici a vari livelli in modo tale da poter intervenire e servire tutte queste macchine che altrimenti sarebbero difficilmente utilizzabili.